Questo era uno dei cinque pianoforti che stavano a bordo della nave. Questo era l'unico pianoforte a coda di tutta la nave. Tutti gli altri erano completamente pianoforti verticali. Erano prodotti dalla Stenway & Sons, che è una delle marche migliori al mondo ancora oggi di produzione di pianoforti. Vennero ordinati base, quindi dei pianoforti base che poi vennero spediti ai cantieri di Harland & Wolfe, che poi vennero impreziositi con intagli e altre finerie di legno. Quindi non erano così originariamente, vennero ordinati completamente base. Queste finestre invece avevano la funzionalità di essere retroilluminate. Infatti coprivano gli oblò che ci stanno, che potete vedere, dietro e non davano l'impressione di trovarsi su una nave. Davano l'impressione di stare dentro a un grande hotel. Quindi nascondevano gli oblò dietro e di notte erano retroilluminate in modo da far sembrare sempre fosse giorno. Questa è una delle poche sale della nave che ha la moquette. Questa che vedete adesso è moquette. Se non fosse affondato, no, non sarebbe in grado di navigare perché le opzioni sono due. O sarebbe stato convertito a nave di trasporto truppe come ad esempio la Olympic e magari si era urato in guerra. O magari continuava la sua carriera e sarebbe stato poi demolito proprio come la Olympic. Le aree destinate ai passeggeri di prima classe erano sorvegliate per evitare l'accesso al resto? C'erano delle piccole ringhierine su tutta la nave che delimitavano l'accesso nelle varie aree. Ma ragazzi ricordatevi che stiamo parlando dell'era eduardiana dove i passeggeri e le classi sapevano già il loro posto. Non erano, tendenzialmente non si mischiavano tra di loro. Un passeggero di seconda classe sapeva di non andare in prima così come un passeggero di terza non sarebbe mai andato in seconda o in prima. Ognuno sapeva, ecco Cormi, è arrivato Cormi, ognuno sapeva il suo posto a bordo della nave. Quindi i cancelli c'erano, ma erano cancelli piccolini, e delimitavano le varie aree. Ma non era quello che vedete nel film dove, ciao Vincenzo, dove vedete insomma passeggeri bloccati, fermati lì, no? Non andate, cioè non sono andate proprio propriamente così le cose. La schiena meglio, Cleo, la schiena meglio. Dopo quattro giorni di cortisone meglio. Quelle cose gialle che hai visto alla base dei muri erano delle piccole bocchette d'aria azione, per l'aria calda. Questa che vedete qui adesso è la sala da pranzo, è l'ingresso della sala da pranzo di prima classe. Se ci fate caso, proprio in questa porta qui, che vedete adesso, questa è dove Jack viene bloccato da Lovejoy, quando va a cercare Rose di domenica che stanno tutti quanti canticchiando a messa. Quindi Rose sarebbe stata qui dietro, proprio qui, perché è qui dove facevano la messa, e Jack stava qui, proprio sulla porta. Quindi qui è la parte del film che vedete in questo momento. Il pavimento invece di questa sala, ragazzi, era linoleum. Non era moquette come vedete, come avete visto nella reception di prima classe. Il linoleum all'epoca era considerato uno dei materiali più di lusso che si poteva usare per l'arredamento. Pensate come sono cambiate un po' le cose. I poveri avevano i pavimenti in legno massiccio, mentre i ricchi avevano il pavimento del linoleum. E pensate adesso, nel 2024, che il pavimento dei poveri, quello in ferro, il parquet o quello che sia, costa migliaia d'euro, mentre il pavimento in linoleum si usa così, perché te lo tirano dietro. Pensate come so cambiate le cose in un secolo di storia, tra virgolette. Allora, sale e giochi? No, non c'erano. Sale per giocare a carte? Sì, diciamo che uno poteva, è arrivato squat, è arrivato. Ognuno poteva giocare a carte un po' dove gli pareva, però diciamo che i luoghi di raccolta per fare quel tipo di attività, c'era la sala fumatori di prima classe, c'era la sala fumatori o la reception di seconda classe, se si poteva giocare sul ponte all'esterno, si poteva giocare un po' ovunque sulla nave. Non è che c'era una sala dove dicevano no, qui non ci potete giocare. Come i ricchi avevano le auto e i poveri cavalli, ora è il contrario. Esatto, Diana, esatto. Non ci avevo pensato a sta analogia, vedi? Verissimo. Nazaro di Puerto, c'erano piscine, c'era una piscina, dopo la andiamo a vedere, e il Titanic, come l'Olympic, quindi le navi di classe Olympic, furono le prime navi ad essere dotate di piscina riscaldata, oltretutto. La prima fu un'altra nave della White Star Line, la Oceanic. Credo proprio la primissima nave fu la Oceanic. Quanto è grande sta sala? Questa è la sala più grande della nave. Era una sala di 35 metri di lunghezza per 28 di larghezza, prendeva tutta la larghezza della nave. Non c'era un'altra sala così grande sul Titanic che portava circa 520-530 coperti. Sì, è due, è il Titanic. La prima era l'Elisabeth? No, 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 la prima, se non sbaglio, era proprio l'Oceanic. Questa sala venne poi riallestita sulla Olympic negli anni 20 e venne completamente modificata. Al centro venne messa una sala da ballo, una grande pista da ballo proprio lì al centro dove state vedendo adesso quei tavoli. Le colonne vennero modificate perché vennero probabilmente rivestite di marmo e tutte le pareti laterali da bianche vennero colorate e verniciate di un blu, un blu chiaro, con dei toni di rosa. Vi ho fatto un video su TikTok che pubblicherò a breve dove vi faccio vedere la trasformazione della sala da pranzo. Da pranzo. Questo è un altro dei pianoforti della Stanley & Sons, però questo come vedete è verticale. Ho visto in un video dove dicevano che mentre stava per partire il Titanic era già al porto una nave quasi finita addosso. Sì, il Titanic ha rischiato un urto durante la partenza con una nave che si chiama Casualità della Sorte New York. Il Titanic stava passando vicino questa nave e l'enorme risucchio del Titanic ha staccato la nave dagli ormeggi e grazie all'intervento di un rimorchiatore chiamato Vulcan è stato fermato a circa un metro dalla poppa del Titanic. Quindi diciamo che c'è stato un incidente prima ancora della partenza. Ci stava per stare un incidente prima ancora della partenza. Adesso vediamo un po' di tutto Raffaele, qualche stanzetta la vediamo. Non sarà una live lunghissima ma vediamo qualcosina oggi. Già dissero che era un male presagio. Esatto, molti passeggeri hanno visto quello come un cattivo presagio. Quello che state vedendo qui invece è l'ufficio del commissario di bordo sul ponte C, quindi un ponte più in alto. Il commissario di bordo Mac & Roy. In questo ufficio si potevano fare un po' di cose. Questa che vedete qui all'ingresso è per esempio una enorme cassaforte, quindi i passeggeri potevano andare lì e depositare i loro gioielli, soldi, quello che volevano insomma per una maggiore sicurezza. Si potevano mandare dei telegrammi proprio da qui, si potevano ad esempio acquistare i biglietti per la piscina, per i bagni turchi, si potevano affittare le sdraio per il ponte, per rilassarsi, si poteva prendere per esempio anche la prenotazione per il ristorante alla cart. Si potevano fare, cioè offrivano diversi tipi di servizi. E se vedete quei tubi lì in fondo bianchi con la base dorata, quei tubi inviavano idraulicamente, non so se ho detto bene idraulicamente insomma, i messaggi alla sala Marconi. Quindi da qui il messaggio veniva messo in questo tubo e veniva inviato direttamente alla sala Marconi, quindi non c'erano addetti che dovevano prendere i messaggi e portarli lì. Tipo la reception, esatto Luca, tipo una reception di un albergo, erano molti servizi, facevano diversi tipi di cose. Pensavi fosse tutto compreso per i passeggeri di prima classe, vedi, invece no. Ci stavano tanti servizi extra, per esempio anche l'esdraio, l'esdraio che vedete sul ponte, magari in alcune foto, anche nel film di James Cameron, non erano incluse, andavano pagate. E questa ragazzi è la suite presidenziale C55-C57 di Isidore e Aida Strauss. Questa era un'altra delle suite presidenziali a bordo della nave, non con ponte di passeggiata privata. Questa cabina è stata modellata per farla diventare quella che vedete nel film. Piccolo dettaglio, la cabina di Rose che vedete nel film erano le suite presidenziali sul ponte B, B52, B54, B56. Ok, questa invece è la C55-C57. Il salone di questa cabina è stato preso e trasformato nel salone della cabina di Rose che vedete nel film, che in realtà però non era così. Cameron ha fatto questa scelta perché questa è una delle suite più lussuose della nave, e quindi per far vedere proprio il lusso ha preso il salotto in stile Regency e l'ha fatto diventare il salotto della cabina che vedete di Rose. Questa cabina non aveva il ponte di passeggiata privata, ma aveva un bagno in camera. Questo che vedete qui, le cabine di prima classe ragazzi non avevano il bagno privato, salvo alcune, come ad esempio questa. Quindi in camera un passeggero di prima classe per andare al bagno doveva uscire dalla cabina e andare a farla nei bagni in comune come tutti gli altri. Questo è stato uno dei motivi per cui poi la Olympic venne smantellata più avanti. perché non era idonea, perché non c'erano i servizi, le navi venivano già costruite con più servizi sanitari e quindi poi la Olympic andò un po' così. Questa è la C55 e C57, c'erano gli Strauss. Credo che la B56, scusami Rosa, non l'avevo letto, nella B54, B52, B54, B56, quindi la cabina di Rose nel film, era destinata a J.P. Morgan, il proprietario del Titanic, che non si imbarcò perché doveva andare in Francia per degli affari di lavoro e molto probabilmente venne data a Bruce Ismay, il presidente della White Star Line. Mentre quelle sul lato opposto vennero date a Drake Cardesa, un altro passeggero di prima classe che riuscì a salvarsi con tutta la famiglia. Quindi quelle sul lato destro... Destro era Drake Cardesa, invece sul lato sinistro erano quelle di Rose nel film e Bruce Ismay nella realtà. Guarda Danny, le misure precise del salotto non me lo ricordo, credo siano grandi uguali, però erano configurati in modo diverso, l'allestimento e lo stile erano completamente diversi. Andiamo a vedere un'altra sala. Andiamo a vedere... queste sono un po' le cabine di prima classe. Andiamo a vedere un'altra sala. Queste sono ancora cabine di prima classe. Allora, questa che vedete qui è la scalinata di prima classe più piccola, quella a poppa. E questo che vedete qui è il barbiere. Il barbiere che però ha un po' una caratteristica particolare a bordo dell'Olympic e del Titanic, perché non era esclusivamente un barbiere, era un po' un negozio di souvenir, diciamo, perché all'interno venivano vendute le cartoline, bambole, tabacco, pipe, sigari, roba con il logo della White Star Line, quindi dentro ci si trovava un po' di tutto. Questo barbiere venne poi modificato sempre con i vari riallestimenti sull'Olympic, venne ingrandito e ne venne aggiunto un altro anche per le donne, sull'altro lato, con delle bellissime finestre rotonde che davano, quindi consentivano l'accesso all'interno. Vi sto preparando un video per TikTok dove vi faccio vedere come il locale del barbiere venne poi modificato sulla Olympic. L'Andrea Doria non si avvicina neanche lontanamente al lusso del Titanic, una delle altre mie navi preferite, ma assolutamente non ci si avvicina neanche neanche lontanamente. Adesso stiamo salendo sul ponte B e credo, se non ricordo male, che stiamo andando al Caffè Parisienne, che è lì giù in quella porta che vedete in fondo a destra. Questa era il pianerottolo, che lo possiamo chiamare, della scalinata, vi faccio vedere un dettaglio, di seconda classe. E un altro dettaglio sulla scalinata di seconda classe, cioè scusate, di prima classe ragazzi, non di seconda, scusatemi. Un'altra differenza rispetto alla scalinata principale di trua è che l'angioletto qui sull'arrivo delle scale guarda verso destra, mentre quello sulla scalinata principale più grande guarda a sinistra. Hanno fatto questa piccola modifica per, non so, distinguere le scalinate, non so di preciso per quale motivo l'abbiano fatto. Oggi sono venuti a casa mia e sono messi a parlare dello scambio dell'arrivo e navi. Cleo, fai vedere i miei video. Questo qui davanti, in questa porta marrone, è l'ingresso al Caffè Parisienne. Il Caffè Parisienne è stata una delle esclusività, delle novità a bordo del Titanic, perché non c'era a bordo dell'Olympic. Quello che c'era al posto del Caffè Parisienne sull'Olympic era tutta un'enorme passeggiata per la seconda classe. Quindi, come vedete sul Titanic, la passeggiata per prima classe, quella all'aperto, ce n'era un'altra sotto al Ponte B che venne chiusa completamente sul Titanic e vennero aggiunti gli spazi, come ad esempio il Caffè Parisienne, venne allargato il ristorante alla carte. È un ristorante, sì, ma in un proprio ristorante, tipo per fare gli aperitivi, cioè il tè, l'aperitivo, stuzzichini vari, non era proprio un ristorante in sé per sé. E questo era completamente arredato in stile francese e i dipendenti anche erano sia italiani che francesi. Questo locale venne poi aggiunto successivamente all'affondamento del Titanic sulla Olympic e quindi questo locale era completamente assente per gli amanti della teoria dello scambio tra l'Olympic e il Titanic, così almeno quando vi dicono che le due navi erano uguali vi potete anche dire che sulla Olympic il Caffè Parisienne non c'era, così almeno sanno che c'è un'altra differenza. Ed era collegato direttamente a quest'altro ristorante che vedete qui davanti, che era il ristorante a la carte che era un ristorante diverso rispetto a quelli agli altri presenti sulla nave come ad esempio quello più grande di prima classe che abbiamo visto prima sul Ponte Ipili. Questo ristorante era gestito dall'italiano, quindi il nostro connazionale, Luigi Gatti. Lo gestiva lui con il suo staff scelto da lui e sia Luigi Gatti che tutto il suo staff non facevano parte dello staff della nave, non facevano parte dell'equipaggio, non erano considerati né staff né passeggeri, era un mondo a parte. E i passeggeri di prima classe potevano scegliere di mangiare in questo ristorante anche solo una volta durante il viaggio oppure per tutta la durata della traversata come desideravano loro, pagando ovviamente un'extra che poteva arrivare da una sterlina fino alle 3-4 sterline per tutto il tragitto in base a come volevano loro gestire i pasti. Il guadagno del ristorante andava che allora non voglio dire una stupidaggine credo in percentuale. Non mi ricordo come funziona di preciso se veniva pagata la percentuale alla White Star Line oppure veniva pagato dei costi di gestione. Poi in caso me la guardo bene questa cosa. C'erano italiani sul Titanic? Sì, ma non sappiamo per certo quanti. Sappiamo in base a i numeri stilati che erano 47. Non lo sappiamo per certo perché molti degli italiani che erano presenti a bordo del Titanic erano già emigrati in Inghilterra da tanti anni di cui avevano la residenza in Inghilterra quindi dalle liste vengono praticamente risultano passeggeri inglesi quindi è difficile capire quanti erano in totale. Sappiamo per certo che ce n'erano 47 di questi 47 se ne salvarono solamente 3. Questo no sul Titanic se ne metta c'erano 12 cani se ne salvarono 3. Questo in questo ristorante la sera prima la sera dell'affondamento i Wideners una coppia molto benestante fecero una cena in onore di del capitano Smith a cui il capitano è stato presente insieme anche a altri iconi e credo anche mi pare anche Bruce Snail proprio qua è nata un po' anche la diatriba il falso mito che il comandante Smith era ubriaco esatto Morena brava da qui da sta cena è nato il mito che il comandante era andato a dormire perché era ubriaco eccetera eccetera quindi oddio il Titanic è affondato perché il comandante non era sul ponte perché era ubriaco cosa che non è così perché abbiamo le testimonianze di chi era effettivamente alla cena che attestano che il comandante non fece nemmeno il brindisi rifiutò addirittura di fare il brindisi quindi non toccò nemmeno una goccia di alcol il comandante Smith era una persona molto rispettata molto professionale nel film il comandante era a letto perché anche nella realtà il comandante era appena andato a letto ma perché come su tutte le navi si fanno i turni e ci stavano gli ufficiali senior appunto a fare i turni di guardia sul ponte quindi non era una novità siete consci che avete creato dei mostri morena ma io sto qui apposta voi siete il mio esercito apposta io dico andate e diffondete il verbo miei piccoli curiositanici allora questa è una delle cabine di prima classe è la B81 vi faccio notare un dettaglio che avevo detto anche in un'altra mia live se notate le finestre le finestre hanno questo ve la metto un secondo adesso in pausa così vi faccio vi faccio vedere questa piccola curiosità vedete questo vetro davanti alla finestra questo questo è un vetro satinato tipo un finestrino diciamo che veniva alzato o abbassato perché queste cabine molte volte davano anche sul ponte o il ponte scialuppe oppure sulla promenade quindi per evitare che le persone da fuori guardassero dentro la cabina quindi magari una donna che si stava cambiando eccetera eccetera si alzavano questi vetri diciamo oscuranti che impedivano la vista da fuori a dentro e tantissime cabine soprattutto quelle che avevano ripeto la finestra sul ponte ripasseggiata avevano questa caratteristica e sul relitto li hanno trovati intatti c'è una cabina poi vi farò vedere la foto dove ha questo vetro alzato bellissimo interamente intagliato inciso a mano una cosa meravigliosa e ripeto è incredibile come tanti oggetti delicatissimi si siano salvati durante l'affondamento quindi come ad esempio una parte enorme come la poppa sia completamente distrutta invece oggetti piccolissimi come bottiglie bicchieri le cose più delicate siano rimaste non solo intatte ma al loro posto è una cosa impressionante e questa che stiamo vedendo adesso è la cabina di Rose nel film le suite presidenziali B-52 B-54 B-56 queste erano le cabine più costose a bordo della nave costavano all'incirca 4.000 sterline dell'epoca che equivalgono bisogna vedere sempre il cambio intorno ai 120.000 dollari di oggi che le cabine di prima classe andavano in base al tipo c'erano cabine standard diversi tipi di cabine avevano un prezzo diverso come si spiega che gli oggetti non si siano rotti perché quando l'acqua è entrata nella nave in molti casi ha creato una specie di cuscinetto di un impatto magari si è propagato in un modo diverso rispetto a un'altra zona della nave e tanti oggetti si sono salvati quindi è assurdo cioè non c'è nemmeno nemmeno i ricercatori lo sanno spiegare pure loro rimangono sempre con la bocca aperta quando fanno una scoperta del genere e trovano degli oggetti così preservati in una maniera allucinante quindi loro sono i primi che rimangono un po' così di stucco quindi non ci abbia è anche allucinante pensare che nessun mobile sedia o cosa che se sia staccata nella cabina li abbia colpiti questo è esatto questo è il salone che mi avete detto come era fatto prima ve l'ho detto ve l'ho fatto vedere questo era il salone della cabina di Roll come sarebbe dovuto essere nel film quindi questo è stato preso modificato e a questo è stato messo invece quello della cabina che vi ho fatto vedere prima degli Strauss sul ponte C quindi un ponte più in basso quella che vedete lì davanti è il ponte di passeggiata privata dove nel film Rose e Cal fanno colazione e Cal sbrocca e calcia via o sbatte via il tavolino l'oggetto più significativo è l'orologio della scania della prima classe e lo so purtroppo non c'è non c'è sul delitto i bagni non ci sono nelle cabine di prima classe solamente pochissime cabine hanno il bagno in camera una di quelle che vi ho fatto vedere prima era quella sul ponte C di Strauss ciao Cleo tanto la sto registrando la live poi la vedete su YouTube questo era una delle novità anche questo che a bordo dell'Olympic venne aggiunto dopo quindi i punti di passeggiata arrivata e se vedete dalla finestra vedete infatti questi vetri oscuranti all'interno da dentro alla cabina davano modo di non vedere l'interno del ponte di passeggiata e questa sarebbe stata probabilmente la cabina di Rose e quella sarebbe stata la sedia dove Rose con il Carillon si prepara per andare a dormire e arriva Cal che gli mette poi al collo il cuore dell'oceano che vedete per la prima volta nel film questa sarebbe stata la cabina di Rose le cabine avevano tutti questi lavandini molte delle cabine avevano tutti quanti lavandini in camera però non avevano i bagni molte avevano ad esempio solo la doccia molte invece avevano anche la tazza e qui ci troviamo sul ponte B quindi sul pianerottolo della grande scalinata sul ponte B questo era un altro dei punti di accesso alla nave si apriva quel portellone ci si trovava in quest'area molte volte c'era anche l'orchestra che veniva messa lì a suonare a un angolino e i passeggeri entravano e si trovavano qui sul ponte B questi sono altri due cherubini piccolini sulla scalinata che non sono stati trovati sono stati trovati solamente quelli sul ponte c e qui dietro gli ascensori gli ascensori erano tre per la prima classe e uno per la seconda classe questi della prima classe avevano dei motori sopra prigionavano circa sei cavalli vapore e c'erano solamente sulla scalinata di prua non erano presenti sulla scalinata di poppa e questo infatti li rendeva un po' un po' cioè non è che venivano usati più di tanto perché appunto chi stava a poppa non li usava non venivano usati sulla Olympic cioè venivano usati pochissimo perché quando c'era mare mosso si incastravano al loro interno c'era un addetto che tramite una leva portava il passeggero su un ponte o l'altro e ce n'era solamente uno per i passeggeri di seconda classe questi avevano una capienza di dieci persone mentre quelli di seconda classe quello di seconda classe ne portava solo 8 e non fermava sul ponte A perché il ponte A era ad uso esclusivo dei passeggeri di prima classe adesso andiamo a vedere anche la piscina sì il Titanic c'erano 2223 persone circa i numeri del Titanic ragazzi sono sempre un po' così non troverete mai un numero effettivo perché i registi purtroppo erano scritti a mano e quindi i numeri esatti non si sapranno mai la scena in cui la nave affonda la rossa e jack si prendono sarebbe stata improbabile non lo so non lo so perché poi il problema degli ascensori che si incastravano venne risolto sulla Olimpica ad esempio vennero aggiunte delle guide di supporto che evitavano che l'ascensore si incastrasse quindi non so se effettivamente poi i ragazzi infilma quindi non lo so qui stiamo qui stiamo sempre su il pianerottolo di prima classe sul ponte B e vediamo dove arriviamo quei piccoli mobiletti che vedete molto spesso alle pareti non erano credenze non erano mobili ma erano stufette elettriche avevano questo questo tipo di copertura in legno ponte B esatto questi due mobiletti che vediamo qui ai lati contenevano delle piccole stufette elettriche questo era un altro degli orologi che vedete e tutti gli orologi sulla nave erano comandati da un orologio principale chiamato master clock un orologio principale che si trovava all'interno della sala delle carte subito dietro il ponte di comando della nave quindi ogni giorno gli ufficiali controllavano il fuso orario modificavano il fuso orario della nave e tutti gli orologi della nave andavano di conseguenza a sincronizzarsi con quell'orologio lì questa è un'altra cabina di prima classe se non sbaglio questo è lo stile adam infatti vedete che lo stile è completamente diverso e un'altra caratteristica è che molti dei letti del cabine stile adam erano in ottone mentre altri erano in legno molto spesso le cabine erano comunicanti per esempio le porte che potete magari vedere sui muri potevano portare a una cabina a fianco e poteva essere chiusa a chiave da una parte o dall'altra il costo del biglietto di prima classe andava da cabina a cabina poteva passare da i duemila diciamo duemila no duemila no quattromila dollari di oggi fino ai 120 150 mila dollari dipende dal tipo di cabina nel suo piccolo dell'epoca la tecnologia sul titanic c'era ce n'era e ce n'era tantissima di di tecnologia sul titanic notare ecco adesso stiamo andando a vedere i bagni visto che me l'avete chiesto siamo arrivati ad uno dei bagni non so adesso se andiamo proprio a vederlo c'era scritto James quindi questo è un credoio che porta su uno dei bagni per i passeggeri di prima classe però non so se effettivamente lo andiamo a vedere adesso perché non la sto controllando io l'animazione ragazzi è un video Demetrio la larghezza era lunga la nave era lunga 269 metri per 28 metri di larghezza ed era alta 53 metri dalla chiglia fino alla cima dei fumaiori no non siamo andati a vedere i bagni questo corridoio però vedete come vi ha portato direttamente sulla grande scalinata di poppa erano collegate da questo corridoio lunghissimo che collegava una scalinata all'altra e siamo tornati dove eravamo prima sul ponte B quindi abbiamo fatto tutto il giro da un lato all'altro della nave passando sempre sullo stesso ponte questa è la scalinata di prima classe di poppa perché ho fatto che ci stanno due scalinate e ne sbaglio sempre era leggermente più piccola rispetto a quella principale più grande perché era più piccola scendeva solamente per tre ponti mentre quella di prima classe principale a prua scendeva fino al ponte E un'altra caratteristica è che la cupola era rotonda mentre quella principale ce l'aveva ovale questo è un altro errorino del film perché nel film vedete che la grande scalinata di prima classe ha la cupola rotonda invece no era sbagliato e qui stiamo sul ponte A e quella che vedete qui dentro col pavimento rosso e blu era la sala fumatori di prima classe questa era una delle sali principali principalissime per gli uomini ed era solamente per gli uomini questa era credo l'unica zona della nave ad uso esclusivo degli uomini anche qui il pavimento è di linoleum un altro dettaglio è che le finestre che vedete ai lati danno direttamente sulla passeggiata sul ponte A e quelle invece più alto diciamo ovali erano state alzate andavano oltre il ponte Scialuppe per dare un senso di ampiezza maggiore alla stanza mentre le vetrate che vedete piombate all'interno erano retroilluminate per dare la sensazione proprio di luce perché dentro a quel compartimento passava un canale di ariazione che portava sopra al fumaiolo c'erano ai lati questi piccoli cucinotti per fare gli appetiti o quello insomma il drink che chiedevano i passeggeri ed era comunicante direttamente con questo qui che è il veranda caffè anche chiamato Palm's Court ce n'erano due ce n'era una a destra e una a sinistra uno per fumatori e uno per non fumatori qui è dove nel film vedete Rose Cal e la mamma a pranzo con Molly Brown Thomas Andrews dove Cal dice prendiamo amiello per due al sangue con un pizzico di salsa di menta questo sarebbe il locale che vedete in quella scena del film era completamente arredato con tralicci di vite e dentro dei vasi erano state messe delle palme kentia per dare questo senso di verde bellissimo quello è un altro dei locali che mi piace uno dei miei locali preferiti sulla nave e anche questo vedete c'aveva il cucinino dove insomma c'era un piccolo menu dove si poteva fare insomma il pranzo e siamo tornati adesso nella sala fumatore di prima classe e adesso vediamo se vi fa vedere il camino qui a destra c'è il camino esatto eccolo qui questo era l'unico camino funzionante della nave era collegato direttamente al quarto fumaiolo e è dove vedete nel film Thomas Andrews che sistema l'orologio che stava proprio lì sopra al camino vedete qui all'ingresso c'era anche una selezione di sigari le pipe insomma davano un servizio ai clienti di prima classe il quadro che era sopra al che era sopra al caminetto della sala fumatori era l'arrivo al porto di Plymouth e è stato fatto dallo stesso artista che ha realizzato l'orologio della grande scalinata di prima classe è proprio tramite lui che sappiamo tra virgolette che alla partenza da Belfast per raggiungere Southenton l'orologio sulla grande scalinata non venne montato forse venne montato dopo però sappiamo per certo dalla sua testimonianza che l'orologio sulla scalinata durante il viaggio da Belfast a Southenton sul Titanic non c'era temporaneamente avevano messo uno specchio e siamo tornati sulla scalinata di seconda classe dove aveva la cabina Thomas Andrews che credo sia proprio questa che stiamo per vedere adesso qui sulla sinistra credo no Thomas Andrews non pagava la cabina questa era la cabina di Thomas Andrews infatti gli ideatori di Honor & Glory hanno messo i progetti della nave perché dai racconti risulta sempre che Thomas Andrews aveva i progetti sparsi nella cabina perché stava sempre lì a lavorare aggiornare i progetti questa è un'aggiunta sul Titanic che non era presente sull'Olympic perché queste due cabine sull'Olympic non c'erano vengono raggiunte dopo la A36 che era stata data a Thomas Andrews e questa non fosse adesso la andiamo a vedere adesso esatto si la A37 che era di padre Francis Brown il prete gesuita appassionato di fotografia al quale dobbiamo tutte e le pochissime foto esistenti ad oggi dei Titanic ed ecco qui un piccolo tributo proprio a padre Brown dove hanno messo nella sua cabina la macchinetta fotografica se non fosse stato per padre Brown non avremmo oggi nessuna se non quasi nessuna fotografia del Titanic quindi è proprio grazie a lui che oggi sappiamo come era fatto all'interno il Titanic allora siamo di nuovo sulla grande scalenata di prima classe di poppa entrando in questo corridoio qui e lo percorriamo fino alla fine c'è una porta scorrevole poi vi dirò un dettaglio particolare di questa stanza questa è una delle stanze più belle della nave c'era la lounge di prima classe che nel film sarebbe la sala dove Rose prima di andare a fare sto volando Jack vede la bambina che sistema il tovagliolo sulle gambe con la mamma che la corregge questa sarebbe quella stanza lì questa stanza è stupenda pensate che aveva un'altezza di quasi quattro metri aveva sti soffitti altissimi e c'era quel bellissimo lampadario lì al centro con 49 lampadine questa stanza è stupenda e veniva molto spesso trasformata anche in libreria venivano spesso messi in quella credenza che vedete lì quella un po' più scura al centro della sala tutte le collezioni più nuove di libri e le persone potevano andare lì leggerli questo è tutto stile tutto stile Luigi quindicesimo è un altro tipo di stile che era a bordo sulla nave era aperta dalle 8 di mattina fino alle 11 di sera questa sala venne chiusa quando la nave urtò l'iceberg e poi venne riaperta proprio per dar modo ai passeggeri di prima classe insomma di riunirsi e non pensare distrarli da quello che stava succedendo questo lampadario è stupendo io intanto guardo i vostri messaggi ragazzi in caso scrivete esatto bravo madwood nell'olimpic in questa stanza intorno agli anni 20 veniva allestito il cinema quindi venivano proiettati i film si levavano si mettevano le serie in modo diverso e si proiettavano i film questa questa era anche usata come sala da tè avevano diversi tipi di bevande che anche oggi molto spesso non molti sono inglesi e molti anche tipi di cose che non si usano più adesso qui è dove venne vista l'orchestra suonare intorno a adesso vi metto un attimo in pausa perché vi devo far vedere una cosa qui è dove si pensa cominciò a suonare l'orchestra intorno a mezzanotte e un quarto quindi l'orchestra cominciò a suonare qui se vedete questo dettaglio sulla porta questo qui sopra questo telaio questo è esattamente il pezzo di legno dove Rose sale e si salva quando la nave affonda quindi a differenza di quello che si pensa non era una porta ma era il telaio della porta della reception di prima classe esattamente quello che state vedendo adesso ed erano la reception era collegata con quest'altra stanza qui che era la sala di scrittura e lettura anche questa sala era stata alzata per dare un'imponenza maggiore più luce ed era nata come sala ad uso esclusivo delle donne quando invece però venne usata tranquillamente anche dagli uomini molto bella anche questa sala questo è ragazzi a stile georgiano vedete quanti stili c'erano sulla nave veramente veramente tanti questa è una stanza che non non era molto non riscontrò particolarmente grande successo sull'Olympic infatti da quello che risulta è che Thomas Andrews avrebbe voluto poi modificarla sull'Olympic e dedicarla ad altre aree passeggeri quindi in teoria questa sala nè non era proprio tutto sto granché per i passeggeri di prima classe che è